Si è capito? Cosa intendevo? Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Irene e oggi andremo a realizzare una full face con soli prodotti Nabla a tema San Valentino Per l'occasione tra l'altro guardatevi, ho fatto uno sfondo super rosa, super romantico Spero che non ci sia troppa distorsione del colore in caso fatemi sapere la prossima volta ci faccio più attenzione Allora, non mi soffermo troppo su tutti i prodotti che vado ad utilizzare Perché tanto saranno tutti i prodotti Nabla e sono, devo dire, tutti i prodotti che mi piacciono tantissimo Ma se mi seguite lo sapete Prima di tutto vado con il Lift & Fix, il gel trasparente per pettinare e fissare le mie sopracciglia Sapete che io inizio sempre dalle sopracciglia Questo prodotto poi devo dire che è molto molto carino, le tiene bene, in ordine, fissate e pettinate per tutto il giorno O per tutta la sera visto che il look che andiamo a realizzare è perfetto per San Valentino E tra l'altro ne approfitto e vi chiedo che programmi avete per questo San Valentino Siete single, fidanzati, se siete fidanzati da quanto tempo e appunto cosa vi piace fare di solito in questa giornata Per gli innamorati ma anche per i single che amano se stessi Prima di riempire le sopracciglia vado con la base E il primo prodotto che andremo ad utilizzare è l'Angelora di Nabla appunto Il primer che va a lasciare questo effetto di pelle luminosa, rimpolpata, radiosa Mi piace tantissimo questo prodotto Poi è rosino in tema con il video che stiamo realizzando Lo vado ad applicare e massaggiare sul viso Intanto se vi interessa io non ho ancora programmi per San Valentino Penso che andremo a cena ma non lo so Dipende dal giorno in cui viene Alexa quando viene San Valentino? San Valentino sarà martedì 14 febbraio 2023 No, 14 giorni Ok, cavolo Vabbè questo video lo sto girando 14 giorni prima di San Valentino Ho tutto il tempo per organizzarmi Viene di martedì Non lo so, il mio fidanzato lavora e si sveglia molto presto la mattina Quindi non lo so cosa riusciremo a organizzare in caso festeggiamo il weekend dai Per uniformare la base vado con la sponge di Nabla e lo Skin Realist Quanto amo questo prodotto È praticamente un ibrido makeup skincare con particelle di acido ialuronico Microsfere di acido ialuronico che vanno a gonfiarsi e a rimpolpare la pelle In un certo senso lo spiego proprio papale papale, super semplice Uniforma l'incarnato ma in maniera molto naturale perché è appunto una crema viso Non è proprio un fondotinta, non è una BB cream È un po' un prodotto particolare È lo Skin Realist di Nabla insomma Io visto che ho una pelle problematica ovviamente cerco di stratificarlo il più possibile Perché voglio un pochino più di coprenza nelle zone più problematiche Quindi quelle della guancia dove ho acne, cicatrici, macchiette, discromie Chi più ne ha più ne metta Veniamo ora al correttore Utilizzo ovviamente il Regeneration Vado prima con la tonalità Light Peach Per fare un pochino di color correction dello scuro dell'occhiaia E qui io ho sempre problemi ad aprirlo Perché adesso ho le mani piene di fondotinta, di cose Vediamo se così con questo asciugamano riesco Che fail! Aiuto Mamma Oh no ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Fatto Ok vado un pochino qui Dove c'è la parte più grigia e scura E vado ad applicare direttamente al di sopra Anche la tonalità Light Ivory Che è quella per illuminare un po' più chiara Scusate se guardo lì ma ho lo specchio Vado anche nelle parti centrali più alte del viso per illuminare E provo un pochino pochino a coprire meglio le imperfezioni Comunque perché sto facendo questo video? Semplicemente per due motivi In primis se vi è utile ovviamente vi do una inspo di un look da sfoggiare nella vostra serata speciale e romantica Se ne avete l'esigenza E non sapete magari come truccarvi, che look realizzare E poi ovviamente questo video rimarrà sul canale anche come una testimonianza di una full face nabla Quindi se volete vedere in azione i prodotti del brand Ecco questo video rimarrà e potrà essere sempre un punto di riferimento in un certo senso Comunque questo correttore rimane veramente uno dei miei correttori preferiti Rimpolpa proprio la zona del contorno occhi, la risveglia E secondo me ha anche una buona coprenza Vedete che adesso la zona è un po' più uniformata A questo punto molto probabilmente il nostro gel per sopracciglia è asciutto Quindi vado con la Brown Bishon Che è la penna per sopracciglia per ricreare l'effetto pelo-pelo Questa tra l'altro è quella nuova perché l'ho finita l'altra Per fortuna ho le scorte dei prodotti nabla perché non so come potrei fare altrimenti Ormai nabla lo sapete è uno dei miei brand preferiti Mi dispiace ma tra pack, qualità di prodotti, l'hype che genera sempre in tutti noi Ammettiamolo È veramente un brand che amo alla follia Guardate l'effetto, super naturale, preciso È pigmentato il giusto non troppo quindi non vi lascia il macchione Andiamo anche qui, tu 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 Ultimamente mi piace proprio l'effetto pelo-pelo, molto naturale Anche non troppo definito, molto... Sì, come fossero le mie sopracciglia un po' più piene e simili Cerco di renderle ovviamente il più simili possibile Ma non è facile perché le mie sopracciglia sono tutte storte Quindi cerco di correggere un pochino Intanto ovviamente lasciatemi un commentino Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti di nabla Già che siamo in tema full face e quant'altro Sono molto molto curiosa Ok, io direi che sembrano abbastanza simili Non mi delude mai questo prodotto E andiamo avanti Ormai sapete che a me per quanto riguarda la base Piace fare prima gli step in crema e poi gli step in polvere Non abbiamo prodotti per fare bronzing in crema di nabla Per ora, io mi auguro che facciano uscire qualcosa Perché amerei alla follia Comunque, come blush vado ad applicare uno dei two reasons Madonna il pack, guardate come luccica Questi prodotti sono favolosi Non amo particolarmente la parte glossata, trasparente A modo illuminante, effetto wet sul viso Però i blush mi piacciono tantissimo Perché in un certo senso hanno un finish non troppo luminoso Non troppo glow, motivo per cui c'è la parte invece super glossata accanto Per rendere l'effetto guancia un po' più tridimensionale Questi anzi, devo dire che un pochino si autosettano Rimane abbastanza opaco, passatemi il termine In particolare oggi ho scelto la tonalità Berry Nude Vado con il pennello per fondotinta di nabla Che io adoro per tutti, tutti, tutti i prodotti in crema Che siano bronzer da sfumare, che sia fondotinta, che sia il blush Come vedete ha una tonalità fredda, abbastanza scura Ma non vi preoccupate perché si sfumano benissimo Piano piano mi vado a costruire la mia guanciotta Così A me piace portare il blush anche in questa zona Anche vicino al contornocchi Provate a fare questa cosa Un po' sul nasino, immancabile Sapete che io abbondo con il blush Non mi rompete È la mia faccia Voilà Vado a tamponare un pochino con la spugnetta sporca di correttore fondotinta A prendere tutto ancora più uniformato E ora direi che dobbiamo opacizzare e levigare il tutto con la cipria Dobbiamo comunque fare una base che duri il più possibile Per rimanere sempre al top per la nostra serata Vado con la close up powder Tra l'altro, poverina Che gli è successo a questa cipria? Ne ha viste tante, insomma, direi Bella provata dalla vita Un mega buco, un cratere praticamente Ma la adoro E vado su tutto il viso con questo pennello Che è un altro dei miei preferiti di Nabla Lo amo Questo è il Bon Mind Brush La vado a prelevare in questo modo Scarico l'eccesso E vado a pressarla Non struscio Ma presso nelle zone che appunto voglio opacizzare e fissare Praticamente io ormai, come vi ho detto, ho cambiato tipo di pelle È assolutamente mista Quindi fisso tutta la base Non c'è niente da fare Anche perché poi se fissate bene la base Soprattutto in queste zone qui Quando andate ad applicare Quando andate ad applicare bronzer e blush in polvere State sicuri che non verranno macchie in teoria In teoria Ok A questo punto cambio pennello Vado con quest'altro piccolino Guardate poverino pure lui Come è conciato Sembra, non lo so, un pennuto bagnato Tutto sparaplappato Sparaplappato Bello Tutto spettinato Poverino Mi piace tantissimo Questo è il Precision Powder Brush Vado a prelevare anche qui la powder E fisso tutta la zona del contorno occhi Perché comunque il correttore di Nabla è bello idratante Tamponiamo per bene La palpebra non la vado a fissare Tanto poi faremo il trucco occhi Intanto vi avvicino così vedete la base Il blush è molto più soft adesso Ma è proprio quello che voglio In questo modo con questo blush leggero fissato con la cipria Poi andremo a mettere anche il blush in polvere E rimarrà l'effetto Perché dovete sapere che in realtà Abbondare con il blush non è una cosa sbagliata Perché il blush è diciamo Quel prodotto che nel corso del tempo se ne va prima Quindi voi abbondate Lo anticipate questo processo di Non lo so Di quando si attenua Mettendo tanto blush appunto E state a posto Andiamo avanti Si è capito? Cosa intendevo? Passiamo adesso a scaldare l'incarnato con il bronzer Vado con lo skin bronzing Nella tonalità dune Pure lui lasciatemi dire Poverino Non ha avuto vita facile questo bronzer E vado con Oh mamma mia Oh mamma mia Non avete capito che Che manovra che ho fatto per salvarlo Mi stava cadendo Vado con L'N309 del set Aquamarine di Nabla Questo è top per l'applicazione del bronzer Verso le guance Lo prelevo in maniera abbondante E vado ad applicarlo in questo modo Non voglio essere troppo precisa Voglio scaldare proprio tutto l'incarnato Vediamo anche qui Questo bronzer non è iperpigmentato Praticamente lo andate a stratificare voi Secondo il vostro gusto Che secondo me è anche un pregio Soprattutto se siete alle prime armi E avete paura di fare disastri Di fare macchie e quant'altro Questo proprio vi dà Tutto il tempo Di gestire il prodotto facilmente E non è un bronzer super opaco Ma non ha neanche glitterini all'interno È una polvere sottile Modulabile E lascia un effetto Secondo me abbastanza tridimensionale Sul viso Mi piace molto Ora sempre con il pennello Con cui ho applicato il bronzer Vado a prendere lo skin glazing Vuoto di memoria Assurdo Anche lui bello bucato Praticamente Uno dei miei blush Leggermente luminosi Prefe Sempre con questo pennello Bello grande Ne prelevo un po' E lo vado ad applicare Sulla guancia Questo è un blush luminoso Volendo potrei non mettere l'illuminante Ma lo metterò Perché ovviamente Ne dobbiamo brillare Come delle stelle Vado anche un pochino Sul nasino Mi piace Lo sapete Così A questo punto Devo cercare un puff Che non trovo Dov'è? Hello? Vabbè non ho trovato il mio classico puff A triangolo Vado con questo qui un po' tondo Prendo un po' di cipria di Nabla E vado a fare questo giochino Qui tipo soft baking Che va a ridefinire Qui Il viso Come a farlo sembrare un po' più liftato Effetto top model Ormai lo faccio sempre Perché proprio mi piace Anche frontalmente L'effetto Poi se vedo che è troppo bianco Troppo netto Ovviamente Vado con il pennello della cipria E sfumo E atteno tutto A questo punto amici Come dicevo Ovviamente Illuminante Non abbondo Dai Ne metto giusto un tocco Perché già abbiamo Uno zigomo Bello radioso Prendo ovviamente Skin glazing La tonalità ozone La mia preferita Prima amavo amnesia Poi come al solito Ormai lo sapete Se mi seguite su tutti i social Che Ah vedi? Vedi? Vedi mamma? Ovviamente amici Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdervi I prossimi video Io queste cose Se me ne dimentico Sempre Brava Irene E venite a seguirmi Anche su Instagram E TikTok Mi raccomando Vi aspetto a braccia aperte Comunque Dicevo Se mi seguite sui vari social Sapete che adesso Ho la fissa Per Le tonalità Più fredde Perché ho fatto La seduta Di armocromia Mi è stato detto Che sono una winter bright E quindi Eccola là Che da che Amavo Le tonalità Champagne Oro I colori caldi Marroncini No Grigio Nero Ma il make up Ma il make up c'è E' molto radiosa Rimpolpata Fresca Fatemi sapere che ne pensate Nabla E i prodotti per la base La vita Dunque Per gli occhi Qui apriti cielo Perché ancora non ho Le idee precise Quello che so È che non voglio fare Un make up colorato Ovviamente andremo Di nude Nude Magari sul freddino Cupid's arrow Sfumato Nero Un nude di transizione Nella piega Infatti mi sono portata Qui sulla scrivania Queste due palette Se non le conoscete Lei è la Read my mind palette Una palette Secondo me Molto interessante E adatta Veramente alla creazione Di qualsiasi look Dai più glam Ai più naturali E ci sta anche Qualche colorino Molto interessante Lei me la tengo Principalmente Per questo nude Di transizione Che è veramente Utilissimo Insomma neutro Molto carino E poi ho portato Qui con me Anche la side by side Questa è quella nuova L'altra l'ho data A mia mamma Sì ho i doppioni Come vi ho detto Io devo avere i doppioni Di Nabla Perché se poco poco Finisco qualcosa Impazzisco Una palette splendida Versatile E bellissima Questa veramente Anche lei Un colore un po' più scuro Per fare dei look Più intensi Ma anche tonalità neutre Sia per dei look Glam da sera Che da giorno Veramente per tutte le occasioni Allora non mi sgridate Volevo essere sicura Di realizzare un look decente Avevo un'idea in mente E appunto Ho provato a realizzarla Da questo lato Adesso andiamo a fare insieme Quest'altro occhio Mi sembra un look carino Volevo appunto Una cosa nude Non volevo il classico Eyeliner semplice Con le labbra rosse Quindi ho pensato Di applicare Questi glitter Un po' Rossi rosa Che secondo me Sono abbastanza in tema Spero che l'idea vi piaccia Vi faccio vedere Nooo Niente Mi è uscito il Cupid's Arrow Dal Cupid's Arrow Sì è successo Questo è perché È praticamente agli sgoccioli L'ho strausato Niente Tutto bene Tutto a posto Quindi vado con il Cupid's Arrow E creo una specie di eyeliner Non troppo preciso Adesso andiamo con il pennellino Angolato E praticamente vado A sistemare La mia linea Ma la sfumo anche Verso l'interno Poi apro anche l'occhio Per capire se L'inclinazione è giusta E simile anche all'altro occhio Perfetto A questo punto prendo Un pennellino Diciamo A penna E prima di tutto Vado a sfumare I bordi del nero Così E questo già mi aiuta Ad avere una prima sfumatura Non troppo netta Poi dalla Read My Mind Prendo questo Nude Di transizione Devo capire come mai Quando avvicino un oggetto Alla videocamera Io divento scura Vabbè Queste cose Non mi competono Mi dispiace Non sono in grado Comunque Vado Con appunto Questo colore A sfumare Un pochino Nella piega E poi ovviamente Vicino All'eyeliner Così Super super easy Proprio Ora con un pennello Un po' più ampio Vado a prendere Questo diciamo Crema Panna E sfumo ancora meglio Tutti quanti I miei bordi Anche All'interno All'angolino interno Per fissare la palpebra E creare un pochino Il punto luce Qui all'inizio Dell'occhio Tanto questi colori Così chiari Fanno un po' Effetto cipria Quindi aiutano Un pochino A sfumare Questo è Bailey Che scava Nella sua lettiera Grazie Bailey Roviniamoci il video Così Grazie amore Ora riprendiamo Il nero E vado a scurire Poco poco L'attaccatura Delle ciglia E la applico Anche all'interno Dell'occhio Ma solo Fino a metà Sfumo ancora Con il pennellino Angolato Anche un pochino Sotto Riprendo il pennellino A penna Sfumo tutto quanto E riprendo Anche il nude Che abbiamo usato Prima E lo sfumo Sotto Così Poi ovviamente Se non avete Questi glitterini Oppure se non vi ispira Il look Con questi glitter Potete anche lasciarlo Più o meno così E tamponare Uno shimmer Magari il vostro shimmer Preferito Su tutta la palpebra E risolvete In maniera Un po' più Semplice Anche che magari Così è un po' Troppo vistoso Per i vostri gusti Io ovviamente Anche un pochino Per cercare di variare I vari look Che vi porto Appunto Cerco di aggiungere Dettagli differenti Di volta in volta Ora Dalla side by side Vado a prendere Questo shimmer Sempre con un pennellino A penna Un po' più ampio E morbido Questo shimmer qui E lo applico All'angolino interno Ma non solo Vado praticamente Anche nella piega A dare luce Alla parte iniziale Dell'occhio Così E anche sotto Al sopracciglio A questo punto Andiamo ad applicare I glitter Ho preso la Ruby Lights Delle palette Glitter di Nabla Mi piace tantissimo Proprio la formula Se vogliamo Chiamarla così E ho scelto In particolare Il colore Ruby Quindi questo Rosso Fragola Allora Questi qui Semplicemente Con il polpastrello Rimangono Attaccati alla palpe Però quindi Devo dire Che sono molto Molto comodi Che vado a tamponare Così Pochissimo fallout C'è proprio Solo un glitterino Piano piano Fate attenzione Comunque si tratta Sempre di glitter Ma rimangono appiccicati Una volta applicati Glitter Vado a riprendere Il pennellino Ungolato Sporco ancora Di nero E sistemo Il look Per non rendere Appunto La situazione Troppo netta Si manca Ad applicare Soltanto Il mascara Sulle ciglia E ho messo Proprio un ciuffettino Di ciglia Verso l'esterno Ma proprio Super easy Ma prima appunto Andiamo a mettere Sulle labbra Il viper Quindi il lip lamper Per gonfiare Le nostre labbra Prima del rossetto Mi raccomando Non uscite solo Con questo Altrimenti Se poi baciate Il vostro fidanzato La vostra fidanzata Si mette a piangere Perché comunque Un pochino Pizzica E lo lasciamo Agire Così avremo Delle labbra Belle rimpolpate Come mascara Appunto Applico Il vicious Questo qui Ok Ciuffetti Messi Questo è Il look Cocchi Per quanto riguarda Le labbra Invece Voglio creare Una combo Ovviamente Rossa Con questo Love kit Che è stato realizzato Appunto Da Nabla Proprio in occasione Di San Valentino E secondo me È un'idea regalo Stupenda Sia da regalare A noi stessi Che eventualmente A fidanzati Fidanzate È appunto il love kit E comprende Il viper Il volumizzante labbra E il rossetto I matte pleasure Nella tonalità Signature red Quindi un bel Rosso classico E credo proprio Che una combo Labbra rossa Sia super in tema Anche con il look Che dite Speriamo Ok amici Questo è il risultato Del look Terminato Scusatemi Se non vi ho fatto vedere L'applicazione Di signature red Ovvero il rosso Dei matte pleasure Di Nabla Però ho pensato Di registrarvi Tipo Un reel Ok spero che questo video Vi sia piaciuto Spero che vi abbia tenuto compagnia Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdervi Eminem Per non perdervi I prossimi video E seguitemi anche Su Instagram E TikTok Vi aspetto A braccia aperte Come sempre Spero che vi abbia dato Un pochino di ispirazione Spero che Vi sia stato utile Anche per scoprire Qualche prodottino interessante Di Nabla Magari E nulla Mi raccomando Interagite con questo video Lasciatemi un commentino Un mi piace Io non vedo l'ora di leggervi E detto questo Vi mando un bacione Ciao 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 Ciao